Piccola comunicazione, i grassi saturi non sono tutti uguali. Se voi andate a vedere i valori nutrizionali dei grassi contenuti ad esempio nel burro e quelli contenuti nella carne rossa, vedrete che se anche sono due fonti di grassi saturi, il tipo di grassi contenuto è differente, è differente nella quantità. Sappiamo che esistono grassi saturi a catena media, a catena corta, a catena lunga. Ad esempio l'acido butirrico è a catena corta, l'acido laurico è a catena media, l'acido palmitico è a catena lunga. Se andiamo a vedere quindi il burro, troveremo certi grassi saturi, mentre se andiamo a vedere la carne rossa ne troveremo degli altri. Ed è importante fare questa distinzione perché i vari grassi saturi non hanno tutti lo stesso effetto sul nostro organismo. Quindi non valutate mai solo il macronutriente, ma valutate sempre l'alimento nella sua completezza.